Il Chieti guarda avanti e sceglie subito il nuovo allenatore, si tratta di Alessandro Lucarelli, per lui è un ritorno. Lucarelli aveva già guidato il Chieti nella stagione 2018-2019, subentrato a Umberto Marino, ha condotto i Nero Verdi ad una finale di Coppa Italia, ma soprattutto alla vittoria del campionato di eccellenza con promozioni in Serie D. In una situazione normale ci sarebbero state le condizioni per una conferma, ma le incertezze societarie e l'avvicendamento laborioso tra l'ex presidente Di Giovanni e l'attuale proprietà, composta dal duo Trevisan, patron e Mergiotti, presidente, hanno raffreddato il quadro tecnico e alla fine la nuova dirigenza ha optato per Alessandro Grandoni. Come sia andata la stagione è storia nota, questa volta pochi dubbi per la società. Si riparte dal 46enne allenatore vezzanese, un accordo già ufficializzato e che prescinde dalla categoria. In caso di eccellenza l'obiettivo sarà vincere. Cosa non semplice, visto che c'è il concreto rischio che il prossimo massimo campionato regionale possa avere in aste di partenza Chieti, Lanciano, L'Aquila e Avezzano. In caso di Serie D l'obiettivo sarà salvezza ponendo le basi per un progetto di rilancio. Proprio la prossima categoria resta l'interrogativo principale sia in casa Chieti che in casa Avezzano. Le due società, come detto, hanno aderito al comitato Serie D Salviamoci e percorreranno tutte le strade, anche quelle della giustizia ordinaria e del ripescaggio, pur di mantenere la quarta serie a dispetto del progetto del direttivo della Lega Nazionale di Direttanti che le vuole retrocesse come tutte le ultime quattro in classifica nei nove gironi. Si aspetta il Consiglio federale del 3 giugno che dovrà accogliere in toto, modificare o respingere la proposta del direttivo dei direttanti. Spero che invece il Consiglio federale del 3 giugno possa ribaltare la proposta e annullare la stagione come avevo sempre prospettato, con una sola promozione per scontentare meno società possibili e azzerare le retrocessioni. Credo che questa sia ancora la strada più giusta. Facciamo parte di questo comitato Salviamoci delle 36 società che sono state di punto in bianco rispedite in un campionato regionale perché crediamo che sia giusto. Faremo la domanda di ripescaggio perché credo che il punteggio del club sia tra i più alti tra quelli che si trovano nella nostra stessa situazione e soprattutto faremo il ricorso al TAR. Siccome credo che sia stato violato un interesse legittimo da parte della Lega Nazionale dei Direttanti con questa decisione assurda, è giusto anche che mi batta per due colori, per il valore della maglia, per i sacrifici economici temporali in questi dieci anni di presidenza.